Settimana di preparazione alla sfida sul campo della crema per la Pistoiese che grazie agli ultimi tre punti conquistati si è mantenuta al secondo posto in classifica, a quota 39, posizione che condivide con il Forlì. Il primo posto resta ancora un po' lontano, sempre 11 i punti che la separano dalla capolista Gianna Erminio. La squadra di Mister Consonni sta facendo il massimo e non arresta la corsa al primo posto, un gruppo, nessuno escluso, che ce la sta mettendo tutta per continuare a crederci. Gli arancioni sono capitanati da un leader dentro e fuori dal campo, il capitano Andrea Caponi. Grande agonismo in campo, oltre alle qualità tecniche che non si scoprono certo ora a Pistoia. Sicuramente le prime dieci partite ovviamente sono mancati i risultati, quindi è chiaro, poi c'è stato il cambio e la Pistoiese ha cambiato marcia. Ora questo vuol dire che il valore del gruppo era alto anche prima, perché se no te non facevi questi risultati. È chiaro che se si vuole parlare delle prime dieci partite dove magari la palla non entrava e tutto qui e di là, però sicuramente il cambio di marcia c'è stato e ora è una Pistoiese da vincere il campionato. Però c'è anche altre squadre, tipo Gianna e Forlì, che stanno camminando come noi, quindi io sono dell'idea che il gruppo era forte anche prima. È chiaro che ora sono aumentate la fiducia e la convinzione di ognuno di noi. Ognuno di noi, da quello che vedo, ha aumentato la prestazione singola e quindi di conseguenza vengono i risultati. Sto bene, sono contento, mi trovo bene con la piazza, ti ho detto come hai detto col gruppo, quindi sto bene, mi sento bene fisicamente, quindi vado avanti con fiducia come vanno avanti i miei compagni. Ci sono tutte le carte per poter far bene, andiamo avanti così con fiducia e vediamo ancora le prossime partite quello che diranno.